Cari amici, va tutto male. L'economia non va bene. Le agenzie di rating vogliono declassarci. Presto i nostri titoli varranno come la carta straccia, ma c'è di peggio, forse ci butteranno addirittura fuori dall'Europa. Ma per fortuna la sinistra ha le idee chiare su cosa sia da mettere all'ordine del giorno. La sinistra infatti sta discutendo da circa 24 ore su un tema assolutamente prioritario e di interesse internazionale, ovvero gli stivali indossati da Maria Elena Boschi durante la convention renziana della Leopolda a Firenze. Qualcuno li ha descritti come stivali a mezza coscia e questa parola coscia ha scandalizzato altri pensatori di sinistra i quali ritengono che sia una parola maschilista e in quanto tale da bandire, ma era proprio necessario usare la parola coscia. Non sappiamo se fosse necessario, sono dilemmi che solo i cervelloni della sinistra possono affrontare. Certamente continuando di questo passo, continuando a riflettere su quelli che sono i veri problemi del paese, cioè gli stivali della Boschi, certamente la sinistra riuscirà a dare un contributo fondamentale per uscire dalla crisi tra le risate.